La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che doni, dona il sangue. La prima volta e per sempre. Allora, Martin Valiant è oggi il match winner. Purtroppo match winner no. Semi match winner perché è venuto fuori un pareggio 1 a 1. Però l'importante è questa cosa che è stato prezioso in un momento topico della partita. Ma magari match winner. Semi ho detto purtroppo. Purtroppo sì. Come ho detto già prima, credo che abbiamo fatto una buona gara come tante altre prima. Stiamo giocando bene, creiamo tante occasioni, ma non riusciamo a portare a casa tre punti. Che ci manca? Ci manca tanto e da tanto tempo. Quindi bisogna rivedere magari qualcosa e dare sempre qualcosa di più, perché se no non arriva la vittoria, saranno i tempi duri. Come dicevamo prima, terzo gol in maglia rosso-verde, secondo qui al libero liberati. Raccontaci un po' che cosa hai provato, quali sono state insomma le due emozioni a questo gol e poi se c'è una dedica particolare. Ma il gol è arrivato anche per caso perché era un'area spinta, mi sono girato, ho tirato come ho provato già anche partite precedenti, meno male questa entrata. La dedica, io il gol dedico sempre a mio nonno, ma questa volta la dedico a Simone Sinico per la sua scomparsa, un ragazzo che conoscevo di vista, quindi è per la sua famiglia, come un piccolo sostegno. Senti, all'improvviso la Ternana così cambia modulo, gioca con un modulo più equilibrato, però nello stesso tempo diventa più sterile davanti in attacco. È una coperta forse troppo corta? Ma questo non so dirti, abbiamo cercato di giocare con i più uomini avanti, abbiamo fatto più gol, però anche abbiamo subito di più. Adesso magari portiamo un po' di meno uomini davanti, non li facciamo 3-4 gol come all'inizio, però non li prendiamo, quindi bisogna trovare un equilibrio dove gol non si prendono e si fanno. Non è facile, se era facile già si faceva. Quindi è anche una questione di tutto, di all'interno e questo gruppo sicuramente lavorerà duro per uscire da questa classifica. Nonostante i quattro risultati utili consecutivi che sono il frutto di quattro pareggi, la vittoria però manca da parecchio tempo a questa Ternana. Avete sentito un po' il peso di questi tre punti che tardano ad arrivare oppure andate avanti tranquilli? No, ma dobbiamo andare davanti tranquilli perché se uno non è tranquillo non può lavorare bene, però sicuramente la vittoria ci manca. Sono tre punti che in questa classifica cortissima fanno differenza, quindi bisogna sempre essere concentrato, aver voglia di lavorare e io credo che i tre punti lavorano e possono essere una svolta di campionato. Grazie a voi. Grazie a voi.